ciao a tutti sono mattia bonavida abito riva del garda in trentino sul lago di garda e i miei sport preferiti sono la mountain bike e la rampicata di fatti come potete vedere questa qua è la mia tenuta principale con cui mi muovo maggiormente nasce la riva mi ha permesso di diventare la persona che sono ora una persona curiosa sempre la costante ricerca di qualcosa di nuovo ed innovativo il rapporto che ho con il territorio è un rapporto davvero molto molto forte in quanto mi piace viverlo in ogni sua sfumatura sia quando c'è il sole sia quando piove la mia famiglia è composta da quattro persone i miei genitori molto importanti e mio fratello denis che seppur più piccolo è sempre influenzato molto nelle decisioni che ho preso mio padre mi ha passato una grande passione della fotografia e di fatto i primi scatti li abbiamo realizzati insieme e ciò mi ha permesso di imparare molto sia dall'ato emozionale che dal lato tecnico nella fotografia una ricerca costante a cui sono dedito è quella verso il colore soprattutto con questi colori vorrei trasmettere le emozioni che provo nel momento dello scatto sono convinto che la fotografia sarà in grado in futuro ma anche tuttora di darmi grandi soddisfazioni e questo grazie a costanza ma soprattutto passione grazie a tutti Grazie a tutti.